Musica Sono ben 159 gli atleti della categoria Juniors che tra poco prenderanno il via nella gara a loro dedicata 44esimo Gran Premio Artigianato, 44esima Medaglia d'Oro della Cooperazione, 15esimo Trofeo, Bettati, Ugo e Ines E' l'assessore allo sport, nonché vice sindaco di Correggio, la signora Emanuela Gobbi che dà il via agli atleti unitamente ad Auro Nizzoli, presidente del Cycling Team Nial Nizzoli e a Dino Bussei, presidente del Circolo Dribbling di Prato di Correggio le due società che organizzano questa manifestazione. Pronti via e c'è subito un tentativo d'attacco portato da due atleti si tratta di Carruba della Work Service e di Paulon della Conscio Sile Team Valtaggio minimo, un attacco velleitario, il gruppo è veramente vicinissimo Il percorso previsto è totalmente pianeggiante, infatti gli atleti vogliono percorrere un circuito locale di 6,5 km per 19 volte per un totale complessivo di 123 km e 500 metri La direzione di corsa è affidata ai signori Pezzini e Tarozzi mentre la giuria della Federazione Ciclistica Italiana è presieduta dal signor Voloni componente il signor Liverani, giudice di arrivo il signor Grandi, giudice in moto il signor Fortini E quando siamo intorno al 25esimo chilometro di corsa abbiamo quello che fino ad ora è l'attacco più importante a portarlo sono quattro concorrenti che viaggiano in questo momento con circa 20 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo, vediamo già qualche atleta muoversi nelle prime posizioni vedremo se i quattro al comando rimarranno in testa o se qualcuno riuscirà ad andare a infotire il gruppo degli atleti che sono al comando della corsa Siamo ormai quasi al quarantesimo chilometro di corsa e gli atleti che avevamo lasciato al comando sono ancora qua con il 145 abbiamo in prima posizione Andrea Colombina della Andreotti quindi una formazione veneta con il numero 11 abbiamo Riccardo Rubini della Casano Romagnano formazione Ligure in maglia nera abbiamo Simone Carletto maglia nera della Contri di Verona e alla sua ruota un atleta di casa abbiamo con il numero 4 Simone Bonaretti della Nial Nizzoli di Correggio quindi la società organizzatrice di questa manifestazione i quattro al comando hanno un vantaggio di 23 secondi nei confronti del gruppo e prosegue il tentativo di Carletto Colombina, Rubini e Bonaretti che sono ancora al comando della 44esima edizione del Gran Premio Artigianato di Prato di Correggio il gruppo arriva con un ritardo di 28 secondi evidentemente lasciano la fuga così com'è anche perché si sa che quando questi tentativi di attacco vengono ripresi parte subito un'altra fuga sono tantissime le squadre presenti c'è una folta rappresentanza delle formazioni soprattutto dal Veneto e sono veramente tantissimi gli atleti velocisti all'interno di queste squadre e quindi sicuramente nei chilometri finali andranno a ricucire certo che se tutti pensano di avere il velocista vincente sarà quasi impossibile per i tentativi di fuga riuscire ad andare in porto comunque continuano a pedalare di comune accordo i quattro atleti che abbiamo lasciato al comando e che sono ancora in testa alla corsa quando siamo a nove giri dalla conclusione quindi 58 e mezzo i chilometri ancora da percorrere allora in seguimento con un ritardo di 17 secondi abbiamo quattro concorrenti e poi arriva il gruppo che ha un ritardo di circa 30 secondi quindi come dicevamo già in precedenza i fuggitivi non vengono mai lasciati andare più di tanto e abbiamo ora una nuova situazione al comando quando mancano poco meno di 50 chilometri alla conclusione infatti sono stati ripresi i fuggitivi c'è ora un tentativo l'abbiamo visto da parte del numero due l'atleta di casa Alfonso Gualtieri della Nial Nizzoli di Correggio è appena partito ma vediamo il gruppo si è aperto però non c'è nessuno che venga a dar man forte all'azione dell'atleta diretto da Gian Primo Borghi che lasciamo per il momento al comando cambia nuovamente la situazione in testa stiamo per transitare sotto la linea del traguardo con il contagiri che segna meno 6 vuol dire che mancano esattamente 39 chilometri alla conclusione con il numero 5 abbiamo Michele Maggi della team Nial Nizzoli di Correggio che è ora in seconda posizione in sua compagnia con il numero 14 Michael Michelotti della Casano Romagnano quindi una formazione ligure due atleti che hanno un vantaggio in questo momento di circa 20 secondi nei confronti del gruppo stanno andando forte vedremo se riusciranno a mantenere un po' di vantaggio nei confronti del grosso cambia nuovamente la situazione al comando ripresi Maggi e Michelotti sono ora altri due concorrenti che sono appena usciti dal gruppo e pedalano con un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti del grosso che come vedete sfreccia via e va ad allungarsi in fila indiana per andare ad inseguire i concorrenti che sono al comando della corsa nuova situazione di gruppo compatto quando siamo a circa 15 chilometri dalla conclusione nulla da fare per i vari tentativi e ora sono le squadre dei velocisti che devono cominciare a tenere davanti le loro ruote veloci in modo da poterle tenere nelle posizioni migliori soprattutto per evitare eventuali cadute eventuali imbottigliamenti nel finale siamo al suono della campana quindi soltanto 6 chilometri e mezzo ancora da percorrere e abbiamo un nuovo tentativo da parte di Giacomo Peroni della Sali di Verona insieme a lui Mattia Canali della formazione modenese della Simec Paletti vantaggio nei confronti del gruppo è di 20 secondi vedete che il gruppo vede già le squadre dei velocisti in testa che andranno sicuramente a ricucire quindi ormai possiamo quasi sicuramente prepararci per un volatone generale infatti il gruppo viene segnalato compatto quindi apprestiamoci a seguire questa volata qualche corridore è andato nel fosso vediamo comunque nelle prime posizioni già lanciatissimo lo sprint sono le maglie nere della Contri di Verona che stanno andando a tutto attenzione anche alla Grumese attenzione alla maglia verde della Bianchin ed è Francesco Lamon che vince davanti a due atleti della Contri Francesco Lamon che volata riviviamola sì una volata magisterale direi perché a 150 metri 200 metri ero ancora in decima posizione ho trovato un barco sulla destra e mi sono buttato ho fatto una bella progressione e ho solito vincere anche abbastanza nettamente prima vittoria stagionale da dedicare a tutta la squadra che mi hanno invitato moltissimo ecco sei riuscito a sbloccarti eri E6 uno dei velocisti più in vista ricordiamo il tuo trascorso su pista che ti ha visto conquistare tanti tantissimi successi adesso si guarda avanti con quali obiettivi in modo principale ma abbiamo finito è un bel periodo che sto lavorando in pista per preparare gare internazionali adesso fra due settimane ci sono i mondiali e speriamo che questa vittoria sia di buon auspicio per una convocazione internazionale con una grande giornata di sport qui a Prato di Correggio no veramente io credo che i numeri il pubblico e l'organizzazione perfetta che si è riuscito a mettere in campo qui a Prato in una realtà frazionale del Comune di Correggio è davvero un grandissimo obiettivo solo la passione la professionalità e il cuore può raggiungere degli obiettivi di questo tipo e qui c'erano tutte da parte degli organizzatori oggi tutto è filato liscio ma a noi sembra di sì anche se in queste cose dire che tutto è filato liscio diventa sempre difficile poi c'è sempre qualcosa da imparare diciamo che rispetto all'anno scorso abbiamo migliorato speriamo di farlo meglio il prossimo anno però insomma ci accontentiamo siamo soddisfatti della giornata è stata una bella giornata di sport credo che la gente tutto sommato si sia anche divertita e che comunque non abbia colto quelli che sono stati gli aspetti negativi pochi io spero della giornata ma oggi direi che è stato veramente un piacere un divertimento aiutare Dino in questa manifestazione perché è veramente il calore la volontà della frazione di Prato come sono date le cose mi verrebbe voglia tutte le domeniche di organizzare una corsa perché in questa maniera veramente per il ciclismo veramente per lo sport è una cosa molto piacevole Possiamo dare l'appuntamento al prossimo anno? Beh sicuramente sì io direi Dino cosa dici io direi proprio che il prossimo anno siamo qua ancora di nuovo salvo siamo imprevisti imprevisti ma siamo qua sicuramente di nuovo vorrei solo rinnovare l'appuntamento per gli sportivi per il 7 di agosto a San Rocco e il 15 di agosto a Gavasseto sempre Juniores grazie a tutti